Quando utilizzare un impianto, potresti ottenere un errore dicendo che il impianto è fuori del paper. Raffiliate il paper try, ma sempre ricevete il stesso errore, se è fuori del paper o non. Cosa fare? Prima di tutto, provate a ridurre e installare l'elettrico. Raffiliate il cable. Raffiliate se il impianto del paper try è overloadato. Raffiliate se il sizeo proprio o il cassetto di paper è seleccato. Se non funziona, probabilmente un sensor di paper è defectivo. Come funziona il sensor di paper? Quando inserisci il paper, il sito muove questo flaccio plastico. Questo flaccio deteccia la presenza del paper. Il flaccio è connettato a un fotosensore sull'ordine, o un fotosensore connettato all'ordine, che dice il printer se il paper è presente o non. Se il flaccio è bruciato, se il fotosensore è fuori, o se la connessione con il board è fuori, il printer può pensare che non c'è il paper, anche se c'è il sheet. Alcuni printers non detecono la presenza del paper, ma il sheet è detecuto solo dopo l'inizio del printing. Qui puoi vedere che il printer muove il meccanismo che porta il paper in place. Poi, il paper roller muove il sheet along the paper pad. Quando finito, il meccanismo del loading takes another sheet. I removed the paper to show you how it works. The two white levers bring the sheet into contact with paper rubber rollers. If the separation pad is dirty, if the paper roller does not drag the sheet correctly, if there are objects preventing the sheet from loading, or if the paper movement mechanism is not working correctly, the printer will send an error message. All right. All right. All right. All right.